Uomini e donne brilla di emozioni nella puntata di oggi con Mario Cusitore protagonista di una dichiarazione d'amore sorprendente nei confronti di Ida Platano ma l'atmosfera si carica di tensione e sorprese con molti momenti seri e altri decisamente più leggeri. Mario dopo una fuga di gelosia ritorna nello studio per dichiarare il suo amore a Ida ma le reazioni non sono tutte positive, critiche da Tina Cipollari e sarcasmo da parte di Pierpaolo. Intanto Milena si concede un bacio con Mario ma non rinuncia al corteggiamento di Federico mentre Marcello e Jessica vivono un momento romantico ma non mancano le tensioni con Diego che si inserisce nella situazione tra Giulia e Cristiano generando scompiglio. La puntata si conclude con un acceso confronto tra Daniele e Valeri che evidenzia le divergenze caratteriali ma anche il desiderio di chiarire e superare le tensioni. Uomini e donne continuano a regalare colpi di scena e momenti intensi tra passioni, incomprensioni e dichiarazioni d'amore.